Mio padre a 6 anni come bambini viene mandato a scuola, abitava in via Mariamina Scrivina, la scuola era in via San Vito, quindi scendeva tutte le mattine, era un bambino molto intelligente, molto bravo, però il maestro diceva sempre a mia nonna, signora lei deve comprare il libro al bambino e mia nonna ovviamente non aveva i soldi e il libro glielo davano se avesse fatto la tessera di Balilla e la tessera costava 5 lire, per cui mia nonna diceva a me che mi aveva dato i 5 lire, mia nonna faceva la lavandaia per campare i figli, c'era il figlio più grande che già lavorava in campagna, quindi il maestro, un maestro molto bravo sostanzialmente, se l'è tenuto fino a marzo a scuola, poi cercando di tambonare, ora lo comprono, ora si fanno la tessera, poi a marzo non ce l'ha fatta più, dice non lo posso tenere più, se non vi è fatta la tessera di Balilla e quindi mio padre è tornato a casa e mia nonna l'ha andata a lavorare in campagna. L'anno successivo, un anno o due anni dopo, invece mio nonna lo rimette a scuola, dopo quell'esperienza del primo anno in campagna, lui poi ritorna a casa, lo rimettono a scuola, lo rimettono e questa volta c'è un maestro che lo prende a simpatia, lo prende molto a simpatia e praticamente gli procura un sussidiario, procura un sussidiario e quindi lui era ripetente, tra l'altro era già uno bravo e quindi il bambino va molto bene e viene promossa alla seconda, se non che poi non può più, è il periodo che muore mio nonno e quindi a un certo punto lui non può andare alla seconda e va in campagna, fa un altro periodo di campagna, ritorna di nuovo dopo questa lunga pausa di lavoro con le pecore di Pastorello e decidono di rimetterla a scuola e siccome pensano che lui avesse già dimenticato tutto, lo riscrivono di nuovo alla fine elementare, di cui farà poi però solo pochi mesi perché poi non ce la faranno e tornerà in campagna, quindi questa è la sua esperienza, lui è stato autodidatto diciamo sostanzialmente da sempre, poi io mi ricordo negli anni sessanta credo, fine anni sessanta, lui prende il diploma elementare serale e mi racconta sempre un episodio perché poi il giorno degli esami lui entra a scuola e tutti i bambini si alzano perché vede l'entrata uno adulto e invece lui poi si va a sedere a seguire i bambini perché doveva fare l'esame con i bambini e poi ovviamente vince, supera l'esame e si prende la quinta elementare, quindi è stato il suo livello di istruzione che è completato dopo 30 anni.